Un nuovo strumento in continua crescita per scoprire in rete la storia del territorio piemontese, sfogliando già oggi più di un milione di pagine, oltre 100 testate giornalistiche e locali, dal 1846 ai giorni nostri. Su www.giornalidelpiemonte.it tutti possono consultare, in modo libero e gratuito, gli archivi digitali dei periodici piemontesi per riscoprire, investigare e ricordare storie grandi e piccole del passato o di una memoria che ancora ci appartiene. Il progetto è stato ideato dalla Regione Piemonte e dal Consiglio regionale del Piemonte, per valorizzare un patrimonio culturale e documentale importante, e per contribuire alla ricostruzione della storia politica, economica, civile e sociale delle comunità locali e del territorio. Alla sua realizzazione partecipano biblioteche, editori e la Federazione Italiana Piccoli Editori di Giornali, che condividono l'idea della fruizione libera e gratuita, mentre la piattaforma web è curata dal CSI Piemonte. Se sei un giornalista, puoi utilizzare il sito per fare ricerche, ricostruire vicende locali, acquisire dati e documentazione originale, tutti elementi utili alla redazione dei tuoi articoli. Se sei un insegnante, hai a disposizione materiali inediti e fonti originali per la didattica in classe e per coinvolgere gli studenti nella ricerca storica. Se sei un ricercatore, puoi condurre ricerche su eventi, tradizioni, personaggi del territorio, studiandone aspetti specifici. E anche se sei solo a caccia di curiosità, puoi scoprire aspetti nuovi del luogo in cui vivi o semplicemente perderti tra le notizie del passato dalla metà dell'Ottocento in poi. Il portale Giornali del Piemonte è uno strumento innovativo per conoscere la nostra storia, per lavorare, studiare e divertirsi tra le migliaia di pagine dei periodici locali, scritte nell'arco di un secolo e mezzo.